3 errori da evitare quando mettete a dimora una pianta. 1. Mettere a dimora la pianta senza aver scompattato le radici. Questo è uno degli errori più frequenti. Una volta estratta la pianta dal vaso è bene cercare di liberare le radici esterne, estraendole dal pane di terra. Questo eviterà le radici di spiralizzare una volta adagiate nel terreno. Questo fattore porta alla diminuzione della crescita e alla stentata ripartenza nel periodo primaverile. 2. Innesto sotterrato. L'innesto non va mai posto sotto il terreno. Quest'azione farebbe sì che la parte innestata generi nuove radici, magnificando lo scopo dell'innesto. 3. Occhio alle concimazioni. Utilizzare delle tamme ben maturo potrebbe aiutare la pianta, ma con il rischio di esagerare è sempre meglio evitare. Di solito, quando le piante escono dal vivaio, sono ben concimate e non necessitano di particolari cure. Se non siete già esperti nella fase di trapianto, evitate questa prezione, provvederete in un prossimo momento. Seguici per altre curiosità sul mondo delle piante.